E poi tutti gli attori erano già preparati da me, e io l'abbiamo fatto. E' un grande attore, io sono molto felice di questa scopetta, che oltre ad essere un grande attore, è un grande uomo. E' una persona di San Giovanni Altenuccio, sapete dov'è San Giovanni Altenuccio? Allora, questa frase è molto chiara. Allora, Napoli è divisa in due, come l'appellino qualcuno. Da una parte c'è la città per bene, la città dei monumenti, la città della cultura, la città dove... dall'altro lato invece c'è la città nelle mani della criminalità. Lui dove è? San Giovanni Altenuccio, Scampia, Secondigliano, tutti i vari quartieri, porticelli e così via. e la mappa... e non sono... sono parte della città, questo non è dove finisce la città. Solo che però, diciamo, non c'è passaggio, diciamo così. Cioè i napoletani della città bene non vanno nella città nell'altra parte della città. e questo blocca Napoli. Allora Francesco è il leader di un gruppo che si chiama Lest, Napoli-Est Teatro, ma che significa anche Nido, ovviamente, in Lese. loro hanno occupato la palestra in una scuola abbandonata a San Giovanni Altenuccio, in una delle qualsiasi più a Drows in San Giovanni Altenuccio, e ne hanno fatto un teatro. un teatro molto importante dal punto di vista sociale, perché chiaramente è un luogo, diciamo, dove per esempio tutta una serie di ragazzi vanno e vengono sottratti a vestire della camorra, no? che è il domino chiaramente. E quindi hanno fatto un avamposto sociale. Grazie.